Voglio essere libero, libero come un uomo. Voglio essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente alla natura. Che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo compiegato della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero. E' libero? Sì, seguo. Le dispiace? No, no, ho fatto. Bel trucco. Grazie. Mi piace molto la sua nota. Grazie. Occhio. Non ha il biglietto? No. Biglietti, prego. Cristian? Cristian, rispondimi. Dimmi. Dimmi. Subito in locomotiva. Cosa c'è? Ring locomotiva, cazzo. Scusate. Faccio arruzzare la fortuna. La fortuna aiuta gli audaci. Come ti chiami? L'idea del lei, la prego. Sono una persona elegante. Come si chiamano? Io sono... Ma tu puoi chiamarmi come vuoi. Tu come ti chiami? L'idea del lei. Sono una persona elegante. Siamo in arrivo, in ritardo, a Polizia. I viaggiaturi potranno trovare il treno in... Si informano i viaggiaturi che i treni in coincidenza dalla stazione di Polizia sono stati cancellati. Ci scusiamo per il disagio. Lei dove scende? Stava facendo l'aria. A causa di problemi tecnici... Allora passeremo ancora un po' di tempo, perché... Mi dispiace tenerla ancora conto. Diversamente da quanto già annunciato. Ci scusiamo per i disagi. Siamo in dettili. Passi 3 e 3 da... Milano Centrale, Venezia, Santa Lucia. Per una porta nuova. Bologna Centrale, Napoli Centrale e Roma Timotina. Subiranno ritardi. Overe azioni per un'occupazione dei binari da parte di manifestanti. Ho sentito dello sciopero? Certo. Lei ha sentito delle riguante? Certo. Era ora. Sì, era ora. Non è salito nessuno? Siamo solo noi due. Cosa sembra? Cosa ha nella borsa? Cosa ha nella borsa? In ottemperanza ai protocolli anti-Covid del Ministero della Salute. Cosa ha nella borsa? Sembra una bottiglia di vetro. E lei che cos'ha nella borsa? E lei che cos'è nella borsa. Era costiglio? No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.